Sì, sei sicuro di volerla continuare così? Mi è cresciuto un corno qua in questa settimana Cioè l'hai fatto nuda? Chi si vede la carreggiata? Ogni ragazzo che ti scrive rispondito a gallo A me sono arrivati dei messaggi che tu avresti mandato alla tua ex fidanzata Sono una stalker, il problema è quello Voglio un amore folle! Tu sei quella! Ma mi ha coinvolto più un amore folle? Mi dispiace tanto perché non ho trovato quello che cercavo Oh, 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 oh... Grazie a tutti.